Oggi è stata un'esperienza fantastica, girare con la mia moto qui a Monza in una pista velocissima e con a fianco una macchina da corsa è stato molto divertente. È veramente strano, le cose sono veramente differenti per come stacca una moto da corsa e un'auto da corsa. Sono belle da vedere soprattutto quando sono messa a confronto così da vicino. L'unica cosa che ho visto è l'utilizzo in uscita di curva delle gomme. Qui ho visto in questa categoria che performano molto bene, le gomme tendono sempre molto a schiacciarsi e andare un po' di traverso e questa è una sensazione bella in moto quanto in macchina penso. Quando hai sicuramente dei pneumatici così performanti, così estremi da pista, è sicuramente una gestione un po' particolare che devi avere per quanto riguarda le moto. Portare in temperatura bene il pneumatico e sfruttarlo al massimo è fondamentale. Per quello che riguarda la macchina mi sto informando un pochettino perché ancora non so fare un compare così ottimo. Grazie a voi, ciao!